Tutto pronto, si riparte in quest'istante, pallone a due scodellato dal direttore di gara Irene Frosolini, non capita spesso di avere una signora che scodella il pallone iniziale. La formazione, il quintetto di base per la CMC Carrara, 4 Fontanelli, 6 Morandi, 8 Capitan Fiaschi, 9 Ramirez, 14 Borghini, l'ex di turno. Chiaramente per l'Amensba, coach Delia Giuseppe Aschiera, 5 Dolfi, 8 Coutini, 9 Kirlis, Laurinas, 18 Bianchi, 40 Gionmetti. In attacco la formazione a retina con il possesso di Matteo Coutini che osserva la disposizione, vediamo come è braccato il 18 Bianchi dall'avversario. e Kirlis possesso di palla, Kirlis dà a Dolfi, Dolfi, primo tentativo, va Rao Giometti, recupera il pallone, va già dietro a Matteo Coutini. Kirlis investe di play, osserva, punta l'avversario e poi cerca da lunga distanza l'occasione che realizza. Si presenta Laurinas, Kirlis, Lozar, Lituano. Da 3, da 3 signori, non può sbagliare, oltre 8 metri. 8 metri di distanza dalla Canestro, li vediamo soltanto in televisione dell'NBA. Vediamo per linee orizzontali, Arrestet, va sulla corsia di sinistra, va, mette dentro, mette dentro questa volta il numero 4 Fontanelli, realizza con perfetta sincronia, va sotto mano Matteo Coutini, aspetta l'arrivo, è arrivata la locomotiva, non c'ha. Matteo Coutini! Abbiamo il re d'Italia noi, il re d'Arezzo, Matteo Coutini. Matteo Coutini, 5 a 2, veramente precisione balistica in entrambi le formazioni. Vediamo come si è aiutato il numero 4, con grande esperienza, Fontanelli fa valere la sua stanza atletica nei confronti del nostro Dolfi che sicuramente cercherà di restituire il complimento. Mentre ancora è Dolfi, Dolfi cerca di recuperare, Dolfi nulla di fatto, passi ravvisati dalla direttore di gara, la signora Irene Frosolini di Grosseto, ha tolto un sassolino, praticamente c'era un interpretaio. Vediamo come si spingono, è il numero 8, il numero 8 capitano Fiaschi con Giulio Bianchi, il metronomo eccezionale. Matteo Coutini fa addosso all'avversario, è partita massia, è partita, eccolo l'ex di turno, il Ramirez allarga sulla forza di sinistra, cerca, non arriva ancora, recupera molto bene Dolfi, fa valere la sua preparazione, vediamo Ramirez finta il tocco, non arriva, va da alto Raul Giommetti, secondo tentativo e la mette dentro, la mette dentro questa volta è il numero 5 Dolfi, Dolfi irregolare questa azione commessa dagli atleti in maglia in completa tenuta azzurra, 8-4, subito vantaggio per la formazione di casa, dicevamo Ramirez 14 i suoi punti nello scorso campionato con la maglia Maranto, mentre noi abbiamo avuto Coutini-Matteo con 447 realizzazioni, 17-2 la partita, è un bel bagaglio, tiene dentro il pallone, in precario equilibrio, ma sta in piedi, tiene dentro il pallone, Dolfi Lorenzo, Dolfi Lorenzo, perdela e recupera molto bene, precario il suo equilibrio, vediamo, tratta, vediamo ancora, suona la sirena ma aveva già toccato il ferro, va in attacco la formazione di ospite con Morando, Morando, Morando in mezzo a 2, il numero 14, Borghini, Borghini, scivola, eh no, per noi è scivolato, Matteo non sa, vediamo a chi viene assegnato, venti di avanti, cerca di farsi sentire dal suo lato, 8-4, ci è sembrato, è scivolato l'atleta ospite, va in attacco la formazione Fontanelli da Ramirez, Iosa, Ramirez, Molukbe, ancora spostato, spostato e regolarmente, questa volta assegnato a Giulio Bianchi, difesa uomo dalla formazione ospite in questi primi minuti di gioco, siamo a 6.37 al termine del primo tempo, ma abbiamo visto la precisione balistica particolarmente da 3, di Dolphi e di Chirlis, con grande sicurezza, ancora cerca Ramirez il possesso, viene seguito da Dolphi, rimette in gioco il numero 14, Borghini, si aiuta con il gomito, il numero 4, 4 Fontanelli, è il più prolifico Fontanelli, degli atleti ospiti, va, trova l'ex di turno, Ramirez, Lotti, Lorenzo, questa volta non va, e va, reverse imponente, reverse di gigante Bodo, Raul Gionmetti, va in attacco ancora Rimbazzo, Bianchi, Bianchi, punta il numero 14, Borghini, e poi da, Raul Gionmetti da dietro, fa girare il pallone, cerca dalla lunga distanza, non va, e Matteo Cutini, al secondo tentativo, da 3, chiaramente non è, velocizza, la mette dentro, anche se è pressato da Cutini, e Ramirez, al suo primo tentativo, 10-8, a Corcia e Gheppe, la formazione ospite, ma chiaramente non deve strafare Matteo Cutini, deve cercare la sua realizzazione da dentro, la zona pitturata, sono i suoi, come questo, vediamo come è strattonato, Giulio Bianchi, realizza, nonostante la irregolarità nei suoi confronti, spalle rivolta a canestro, è Ramirez, è il numero 8, scusate, capitano Fiaschi, da dietro a Fontanelli, Fontanelli, è il top da propria formazione, arresto e tiro, non va questa volta, a Rimbazzo, pagherà la meglio, è il numero 4, ancora Fontanelli, Fontanelli, cerca gli schemi, finta con Capitano Fiaschi, a rimbalzo ancora in difesa, Raul Giommetti, sui rimbalzi è eccezionale, sia in fase offensiva che in quella difensiva, finta il tiro, lo zar lituano, blocco in attacco di Raul Giommetti, va fino a fondo, e va dentro, destro o sinistro, il numero 9, Chirlis, non tradisce le attese, 14-8, un buon risultato dopo essere stato in vantaggio sempre fin dall'inizio, la formazione a retina con due triple, è passata con Bianchi, Giommetti e Cutini, Cutini ha esagerato dalla lunga distanza, cercato il tiro da tre, ma deve praticamente operare nelle sue capacità, quelle che sono di sfondatore eccezionale, in mezzo alla confusione, in mezzo al semicerchio, deve evitare, vediamo le mosse di Diamanti, le urla si sentano su dalla tribuna centrale, Diamanti si fa ascoltare da una tonita schiera di atleti in magliazzurri, vediamo, si riparte un minuto di riposo per cercare di fare ossigenare le meningi, per schiarire le idee ai propri ragazzi che stanno soccombendo in questa fase iniziale, quando sono passati poco più di 5 minuti, 4-28 al termine, per arginare le folate offensive di elementi che difficilmente sono marcabili, va in attacco, possesso per la formazione labronica con il numero 8, Fiaschi lascia Morando, Morando, va, Morando, pressato in attacco, va, ancora riceve il numero 4, entra nel colo d'ombra, Giommetti, ancora rimessa dal fondo per la formazione tirrenica con Capitan Fiaschi che dà al numero 4, sotto il numero 4 ha lasciato la zona ancora, Fontanelli riceve chiaramente davanti al canestro, no, nessuna difficoltà senza alcuna difesa a trovare la via del canestro, 14-10, è servita la fermata a me, Matteo Cutini, vediamo come alza la parabola, mette, eccolo, e va, Chirlisse, si prende il gioco degli avversari, ballonzola sopra il canestro, terza volta e poi va dentro, altrettanto come fa il numero 8 in questa circostanza, ha segnato a Fiaschi da tre, vediamo, Matteo Cutini lascia Chirlisse, corto, va da dietro, con grande diligenza, e va, Dotti Lorenzo, Dotti Lorenzo, 17-13, 19-13, cerca della lunga distanza, non si ricorda della posizione dello scorso anno, il nostro Ramon Ramirez che vestiva la maglia marana, vediamo, questo ha usato troppo, si dispera, si dispera, si dispera, ha affiancato l'avversario, ma non sembrava assolutamente un fallo sull'uomo, comunque, la signora Irene Frosolini, esce chiaramente al primo fallo, il nostro grande Delia Giuseppe, Peppe Delia, penalizza l'atleta con l'esclusione, entra Carlino Provenza, vediamo a uomo, questa volta la difesa, cerca di, dalla lunga distanza, il numero 4, Fontanelli, da, ah, Fiaschi, Fiaschi la mette dentro, da 3, Fiaschi la seconda tripla, accorcia il gap, 16-19, ottimo questo servizio di Carlino Provenza, finte, che spostano letteralmente gli avversari, dicevamo, lo scorso anno, Bianchi, con, 7 punti, la media percentuale a partita, 188 totale, ma è stato Cutini, il ciclone, 447 punti realizzati, nel torneo dello scorso anno, vinto, e poi sconfitti, dalla Fides Montevarti, nella fase finale, all'ultimo tuffo, al foto finisce, ma quest'anno, vediamo se esce la foto, Carlino, finte veramente, stratosferi, che cerca, ritorna sui sui passi, torna dietro, torna nei, finte, e poi va al tiro, imbracato dagli avversari, non trova la conclusione giusta, 19-16, va in best replay, Ramirez, parte da lontano, Ramirez va, per Capitan Fiaschi, il pallone, spalle rivolte alla, cerca della lunga distanza, Fiaschi, la mette dentro, Fiaschi, Fiaschi, commette fallo, il numero 6, Morando, su portatore di palla, Anche in questa circostanza, è Mirko Diamanti, che applica la penalizzazione, di chi sbaglia, fuoriesce, entra il numero 7, Raffaelli, esce Giulio Bianchi, sostituito, da Chirlisse, che è stato appiedato, per la, infrazione commessa, certamente involontaria, abbiamo visto tutti, Chirlisse, assolutamente, 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 questa volta, assolutamente, assolutamente, 19 pari, 19 pari, il secondo arbitro, il signor Agnorelli Giovanni, ha ritenuto opportuno, annullare questa, si è appoggiato, ha tenuto le spalle, cosa deve fare, non ha toccato con le mani, ha toccato con la spalla, l'avversario, peccato, auguriamoci, che sia un piccolo inconveniente, accorso a questo arbitro, secondo arbitro, chiaramente, la signora ha annullato una rete, un canestro in precedenza, questo signore, ora, sono due, sono due sbarioni, che riteniamo, penalizzanti, per la nostra formazione, auguriamoci, che non lo siano, per il morale dei nostri ragazzi, vediamo, l'intervento del, entra in mezzo a due, cerca, va a scompagno, e la mette dentro, questa volta, il numero quattro, è il numero Fontanelli, che va, a realizzare, 19 a 21, va in vantaggio, la formazione ospite, Dolpi, Dolpi, alza la parabola, va a cercare, si libera molto bene, Dolfi, Raul Gionmetti, la mette dentro, catapulta, Gionmetti, dentro il 21 pari, 47, vediamo, cerca di cozzare, vediamo, il numero quattro, Fontanelli, non va, rimbalza, la meglio, la formazione con Ramirez, questa signora, Irene Frosolini, Irene Frosolini, deve accettare, i fischi, deve accettare, i fischi, del pubblico, e sono già tre, sono già tre svarioni, a nostro avviso, che ci stanno penalizzando, e va, Iosa, Ramirez, entra l'esperto, Stefano Liberto, sostituendo, Giosi contro il passato, realizza il primo, il passato, contro il presente, va anche il secondo, ci aveva abituato, veramente bene, anche lo scorso anno, sono 14 suoi punti, 369, cerca, fugge il pallone, vediamo, a chi ha segnato, questa volta è stata, benevola, la signora Irene, ci ha assegnato, questo, discutibile fallo, quindi, ritorniamo, nei ranghi, della regolarità, del fair play, anche gli albidi, chiaramente in gioco, veloce, come quello, del basket, e particolarmente, in questo turno, dove sono di fronte, due formazioni, organizzate, e attrezzate, per, di prima fascia, per fare il salto, di qualità, fare il salto, di categoria, ancora discussioni, incomprensioni, vediamo, va a cercare, il Diamanti, certo, Diamanti, l'esplosione di gioia, la sua, chiaramente, è dall'inizio, che fa altro, che urlare, quindi, giustamente, la richiama, ad un comportamento, più consono, ad un, educatore, quale, l'allenatore, il coach, o il mister, che sia, chiaramente, anche il timbro di voce, la sua importanza, particolarmente, in, campi di gioco, e, Stefano Riberti, dai vai per, Cardino Provenza, a girare il pallone, e va, Lorenzo, Dolfi, ancora, seconda tripla, non va, vediamo, rimbalzo, in mezzo a tre, nulla di fatto, termina, 24 a 23, vantaggio, la formazione, di casa, ma, vediamo, 24 punti, è una, un risultato, importantissimo, un risultato, dove, le, le attacche, hanno avuto la meglio, sulle difese, ma, sicuramente, non sarà sempre così, a tra poco, tutto pronto, qui, al Palasport extra, per questo, secondo quarto, ha fatto, una partita importantissima, è risultato, dopo aver superato, gli avversari, ben, sei punti, 14 a 8, 19 a 13, il ritorno, imperioso, degli avversari, con Fontanelli, scatenato, del Capitan Fiaschi, con tre triple, è ritornato, in equilibrio, 24 a 23, un, 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 palasport extra di Arezzo, con due formazioni, in prima fascia, è libera, Carlino Provenza, commette fallo, sull'avversario, in fase di tiro, antisportivo, ha toccato l'avversario, ha toccato il numero 7, che va, e va, va dentro il primo di Raffaelli, e va il secondo, Raffaelli, che passa in vantaggio, 25, 24, la formazione ospite, Matteo Cutinini, Carlino Provenza, Gramaccia, Gramaccia, c'ha, vediamo, eh, perde il pallone, distrugge il pallone, Iosa, non va, rimbalzo, vediamo Iosa, perde il pallone, ottimo lancio di, Dolphi, Matteo Cutini, Stonella, il ciclone, Scodella Canestro, questo è il suo gioco, dentro il semicerchio, deve stare Matteo Cutini, non deve assolutamente, da tre ormai abbiamo, visto le sue, torna a vantaggio, perde il pallone, ancora Matteo Cutini, Matteo Cutini, si allarga, Carlino Provenza, e poi riceve il pallone, Carlino Provenza, non va, rimbalzo, ottimo, è peccato, è sfortunato, sfortunato, Gramaccia, sguscia, recupera il pallone, poi da, numero 7, la mette dentro, Raffaelli, Raffaelli, mano vellutata, da tre, da liberi, 28, 26, torna a vantaggio, la formazione, il, 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 sbilancia, l'avversario, non va, a rimbalzo, è l'esto, Ramirez, allarga sulla corsia di sinistra per Raffaelli, poi, ancora Ramirez, blocco in attacco del numero 23, Burriano, Burriano, cerca, non va, scoccia nelle mani, e va, sgramaccia, Carlino Provenza, sguscia, dalle grinti, il numero 23, smarcato, Matteo Cutini, Matteo Cutini, un solo nove, Matteo, questo è il suo gioco, dentro la zona perimetrale deve stare il nostro grande Matteo, il trascinatore, 28 pari, va, si gira, vediamo, sbilanciato lungo, ancora con il contagiri, dato il pallone anticipato da Fontanelli, Fontanelli, allarga sulla sinistra per il numero 8, vediamo, per Fiaschi, non va, rimbalzo, grava maccia, ancora, ottimo, vado, ottimo, peccato, ma ce la fa, Matteo Cutini, va, ma Carlino Provenza, la velocità, vediamo come, Matteo Cutini venga, Carlino Provenza, non va, ha chiesto troppo a propri mezzi, venetario, questo tiro dalla lunga distanza, di Carlino Provenza, comunque, ce l'ha nel suo DNA, il tiro da tre, ancora, rimbalzo, vediamo, arriva, velocissima, numero 7, Raffaelli, è la volta di Fontanelli, questa volta il numero 4, che infila, è parsa in vantaggio, 30 a 28, Gramaccia, Gramaccia, ma ottimo, vediamo, il fallo non ravvisato, al nostro Gotti, mette in attacco, Matteo Cutini, vediamo ancora la volta, il fallo, ma c'era anche sotto, in difesa, il numero 23, Buriano, mentre c'è una sostituzione per parte, esce il numero 23, comunque, nonostante, l'intensità di gioco, il, vediamo, non è contento, Mirko Diamanti, se la prende anche con, Rami, Carlino Provenza, va fino in fondo, e poi da Matteo Cutini, fa girare la sfera, Chirlis, Chirlis, ottimo Carlino, non fa ancora, vediamo, Chirlis, cerca, rubato il pallone, dal numero 6, Morando, Morando, manovra ragionata, vediamo il blocco da dietro, del numero 14, Borghini, non, ha commesso fallo, il Cardino Provenza, ci sembra, esce Raul, Gionmetti, subentra, rientra in campo, Giulio Bianchi, Gionmetti, lo scorso anno, e va, rimbalzo altissimo, di Fontanelli, fortunoso anche in questa circostanza, Ramirez, va in attacco, Cardino Provenza, stoppato, stoppato dal numero 7, Raffaelli, Cardino Provenza, rimessa dal fondo, per Matteo Cutini, dopo la zampata su, Cardino Provenza, arriva, ottimo questo servizio, è anticipato ancora una volta, da Raffaelli, sono palloni pesanti, non si può concedere, 4 punti di vantaggio, 32 a 28, arresto e tiro, non va questa volta, transizione per la formazione a retina, allarga, Pere, gira, Cardino Provenza, non va ancora una volta, Cardino Provenza, si rispera, tocca 4 volte il ferro, e poi termina out, 28 a 32, commesso fallo, entrano in due, Dolpi, esce Gramaccia, Gramaccia non è la sua giornata, ricordiamo anche l'assenza di Claudio Castelli, il capitano di lungo corso, capitano che è dovuto abbandonare, l'atleta per un infortunio in allenamento, 32 a 28, è il momento di stringere, di recuperare il gap, viene, va a terra, vediamo, messo giù, messo giù, Dolpi, dal numero 8, capitano Fiaschi, con grande esperienza, non interviene il duo arbitrale, sarà rimessa laterale, 4 e 47, al termine del secondo quarto, ritmo velocissimo, questo turno, tra due formazioni, che inserite in fascia 1, cercheranno di superarsi, vicendevolmente, capitano Fiaschi, che allarga sulla corsia di sinistra, allunga, verticalizza, per, cerca di entrare dentro, il numero 14, questa volta strappa, dalle mani di, di Raffaelli, il pallone, Matteo Cutini, e poi cede a Chirlis, Laurina, c'è un fallo, c'è un fallo non ravvisato, dal duo arbitrale, Laurina, stava fino a fondo, e lo vedrà, il direttore di primo arbitro, Irene Frosolini di Grosseto, due tiri, Niveri per Chirlis, 28 a 32, non va, non va, vai, il secondo, 4 e 14 al termine, possesso tedeschi, c'è la sostituzione di Raffaelli, entra Ramirez, Ramirez riceve il pallone, transizione, supera la metà campo, Lex di turno, acquista velocità, è stato Dolphi, ha superato in velocità, quindi non sappiamo, ha avuto il vantaggio, era davanti Ramirez, quindi ancora Dolphi su Ramirez, possesso Borghini, Borghini allarga, dai e vai per il numero 6, ha rimbalzo, e la mette dentro Fontanelli, 34 a 29, ed ora ha 5 le lunghezze di vantaggio, vediamola, Matteo Cutini, ancora una prodezza, 31 a 34, deve cercare di, vediamo come il numero 14, scalpiti con le spalle, finta il tiro, e poi allarga sulla corsia di sinistra, da dentro, la mette dentro, da due, da due, Ramirez, 36 a 31, Giulio Bianchi, va allarga per Matteo Cutini, a zona, questa volta la difesa, cerca le braccia, la mette dentro, ancora lui, Matteo Cutini, e poi sguscia, doppia cifra per Matteo Cutini, finta il numero 6, cerca, poi da, sotto mano per, cerca da lunga distanza, capitano Fiaschi, capitano Fiaschi, 2,45, e va sulla sirena, perdono possesso, i labronici, rimessa, laterale, per la formazione Aretina, 33 a 36, più 3 per la formazione, ospite, coach Aretino, cerca il, vandole della matassa, per tornare in vantaggio, vediamo, un momento, difficile, quello della nostra, formazione, comunque si sta, riprendendo, con Matteo Cutini, che ha realizzato, in questo secondo parziale, ben 8, dei 9 punti, realizzati, e uno su, di Chirlisse, su, battuta dal, da fermo, richiamato il, il roster in panchina, per cercare di dare le dovute, energie mentali e fisiche, ai ragazzi, che hanno visto, nel numero 4, Fontanelli, con 16 punti, le tre tripli, di Fiaschi, e Ramirez con 6, 5 di Raffaelli, gli unici marcatori, 3 elementi, 4 elementi, praticamente, contro, i nostri ragazzi, chiaramente, mancano i punti, di Gramaccio, ancora, tenuto a riposo, dal, coach, Delia e Giuseppe, mentre si va, la rimessa in gioco, con Dolphi, Lorenzo Dolphi, da, a Chirlisse, Laurinas, Chirlisse, punta al diretto avversario, il numero 6, Morando, perde il pallone, perde il pallone, e va, va dentro, Ramirez, in contropiede, ed ora, va, sale il vantaggio, e si è liberato molto bene, Bianchi si era liberato sulla verticale, nella zona pitturata, non è stato visto il, il passaggio, Matteo Cutini, punta all'avversario, e poi cerca, e va, la mette dentro, Matteo, ispiratissimo, scarica, a canestro, un pallone, veramente, che carica, moralmente, i nostri ragazzi, 35 a 38, vediamo il blocco, in attacco, con il gomito, del numero 4, Fontanelli, non soltanto in attacco, ma anche in difesa, cerca, la tripla, numero 14, scelta da lunga distanza, va, va dentro, 1,43 al termine, cerca, e la mette dentro, Morando, in precario equilibrio, va, mette dentro, un pallone sbilanciato, 40, 35, assolutamente, Matteo, non devi, Matteo, non devi assolutamente, esagerare, non devi cercare, i punti, da fuori, semicerchio, il tuo gioco, e la penetrazione, in velocità, superare gli avversari, mette la canestro, dalla distanza, chiaramente, da ognuno, alle proprie attitudini, le proprie peculiarità, va fino in fondo, e poi da, cerca, non va, questa volta, Matteo, in elevazione, stupendo, vola alto, cerca di superare l'avversario, e poi da, a Gramaccia, Gramaccia, disturbato, Gramaccia, non va, e non va, Gramaccia non va, non va, Gramaccia, peccato, ci mancano i punti di Gramaccia, sparisce il pallone, e cerca la velocità, Matteo, la mette dentro, Borghini, anche Borghini, segna, 35, 42, più 7, vantaggio, vedi, ottimo, ma, ma, è cato, ancora, e mezzo a due, disturbato, disturbato, ha visto, vediamo, cosa ha visto il direttore di Gara, ha visto un antisportivo, ci sembra di, sul numero 8, Capitan Fiaschi, 35, 42, accesso ai, tiri liberi, per gli avversari, non si sta mettendo, per niente bene, chiaramente, abbiamo visto, un cutini in grande spolvero, un kirlisse, un inizio travolgente, poi, si è un po' fermato, come Dolphi, nel resto, un Gramaccia, ancora, al, al, chilometro zero, mentre, nettamente, al di sotto, delle potenzialità, chiaramente, kirlisse, ancora c'è, 40 minuti, 20 minuti, effettivi di gioco, tutto da, sistemare, di raddrizzare, un risultato, che, ci sembra, non è compromesso, minimamente, siamo stati in vantaggio, noi, di sei punti, d'ora, sono gli altri, che ci stanno, sul classando, abbassato, il tono della voce, anche, Mirko Diamanti, è quella, forse, va il primo, di Fontanelli, di Fontanelli, possesso, per gli avversari, con, Ramirez, Ramon Ramirez, la rimessa, in gioco, è per gli aretini, è stato commesso, il fallo, ancora, Irene Frosolini, che non condivide, l'operato, del secondo arbitro, restituisce, il pallone, agli avversari, che si proiettano, Capitanti Aschi, e le Fontanelli, Morandi, si divera, molto bene, il numero 4, va, recupera il pallone, il numero 14, e dà dietro, lungo il pallone, sulla sirena, 43 a 35, più 8, per la formazione ospite, auguriamoci, che, negli spogliatori, Peppe Delia, si faccia sentire, Dia, impartisca, quelle istruzioni, necessarie, per tirare sul morale, dei nostri ragazzi, che ci sembrano, veramente, non eccessivamente, al top, della situazione, l'assenza, del guerriero, l'assenza, del guerriero, Claudio Castelli, chiaramente, ha giocato, un brutto tiro, un tiro mancino, alla nostra formazione, la sua assenza, sicuramente, sarebbe stata, sarebbe stata messa, alle spalle, a controllare, il numero 4, Fontanelli, il miglior realizzatore, o dello stesso, Ramirez, noi, ci salutiamo, tutto pronto, qui al Palasport Estra, Mario Daga, da Diarezzo, per l'inizio, di questo, secondo tempo, lungo, 35 a 43, vantaggio, per la formazione, ospite, dopo essere stato, in vantaggio, per il primo, parziale, e per parte del secondo, è venuta fuori, l'intraprendenza, degli ospiti, particolarmente, con Fontanelli, con 17 punti, seguito da, Fiaschi, 9, Ramirezzi, 8, 5, vediamo, commesso fallo, il numero 14, Borghini, ancora possesso, per i nostri ragazzi, a vuoto, questo, tiro da, oltre, 8 metri, di Ramirez, Matteo, vediamo, come, Raul Gionmetti, si ha, placato, dal numero 14, che con le mani, che con le mani, indietro, cerca, si gira molto bene, Matteo, a rimbalzo, va, tocca, e il pallone, improvvidamente, il nostro attaccante, quindi, si riparte, con questo possesso, di Fiaschi, Capitan Fiaschi, in veste di play, è seguito, vediamo, come il numero 14, il numero 14, Borghini, ci è sembrato, non eccessivamente, ortodosso, cerca, dalla lunga distanza, ancora, non va, tocca, ancora possesso, cerca, Ramirez, cerca Ramirez, allarga, taglia tutto il campo, in orizzontale, poi, da, il numero 7, Fontanelli, e la mette dentro, Fontanelli, da tutte le posizioni, Fontanelli, e il numero 6, scusate, Morandi, questa volta, da posizione, ed ora va a 10, comincia a essere, preoccupante, dai raidi, Matteo Cutini, lunga distanza, è Raugio Metti, anticipato dal numero 14, ancora un attacco, sbilancia, Fontanelli, sbilancia l'avversario, 47 a 35, 12 punti di vantaggio, avrebbe del clamoroso, dopo, dopo tutto quello che, ha costruito, sinora, la formazione a retina, chiaramente, la Carrara, la Carrara, la Carrara, ha allestito, ha prontato, una formazione, di tutto, ecco, il nostro Capitan Castelli, con le stampelle, l'infortunio, è più grave, del previsto, l'applausi, sono indirizzati, a questo giovane, dicevamo, il coach Diamanti, che ha sostituito, Massimo Colombi, ha rinforzato, con la Iosa Ramirez, ma anche con Raffaelli, dal, dal Viareggio, quindi abbiamo visto, Raffaelli, Fontanelli, vediamo, stoppato, da Raul Gionetti, e vediamo, che sia l'incipito, va, Chirlisse, non cacizza, Chirlisse, vediamo, vediamo, Ramirez, vediamo il nostro, Raul Gionetti, che cerca, l'applauso del pubblico, silente, sino a questa circostanza, ma è proprio, quando si perde, che va incoraggiato, dalla formazione, quando si vince, non ha bisogno di niente, vediamo, storditi gli avversari, la panchina, ancora il numero 8, veramente non va, rimbalzano a meglio, Dolphi, Dolphi, Matteo Cutini, si libera molto bene, va fino a poi, guarda, Cardino Provenza, ancora, allarga, Dolphi, Cardino Provenza, peccato, non va, va ancora, Raul Gionetti, anticipato questa volta, dal lungo, dal numero 14, Borghini, che ha cercato, non va, ancora rimbalzo, Cardino Provenza, non c'ha, ottima, vai, Raul Gionetti, bravo Gionetti, bravo Gionetti, 1-2, 47-40, ha accorciato il gap, da 12, da 3, da 2, e il nostro, Kirliss, ha dato là, con Gionetti, 5 punti, 40-47, e bene fa, Mirko Diamanti, si è richiamare, in panchina, il, il suo roster, per cercare di, cambiare, l'inerzia del gioco, l'inerzia dei punti, in questo turno, difficilissimo, abbiamo visto, come la formazione, più predica, si sia rinforzata, nel suo organico, un organico, con elementi, provenienti, da categorie superiori, i nostri ragazzi, con, Kirliss, e Dolphic, che stanno, hanno, veramente, fatto, la differenza, nei turni, di Coppa Toscana, e, anche, nei primi due, turni di campionato, stasera, con, la CMC Carrara, un altro, scafolo durissimo, lei, Capitan Fiaschi, portas passo, Pardino Provenza, Fontanelli, Fontanelli, sportellate, nella zona pitturata, taglia tutto il campo, per Morandi, cerca della lunga distanza, e la mette dentro, la mette dentro, Capitan Fiaschi, 4-4 tiri, vediamo com'è, Cardino Provenza, Cardino Provenza, sotto canestra, Rao Giommetti, reverse, che non trova, va, Pardone Contesa, è proprio lui, sguscia, sguscia, e poi va a servire, Fontanelli, 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 non perdona, ritorna più 12 il vantaggio, e ora ci vuole la bomba, Matteo Cutini, Matteo Cutini, va, una sostituzione, Cardino Provenza, e ci mancano, Gramaccia, ancora a zero, la sua tabellina, Gramaccia, indeciso, oggi è una giornata no, Matteo Cutini, va a ricevere, da Lorenzo Dolfi, Lorenzo Dolfi, tenta il tiro, da lontano, finta il tiro, e poi non va ancora, torna il pallone, in mezzo a due, stoppato, recupera il pallone, il numero 6, Morandi, Morandi, torna, no lucche per Ramirez, Ramirez, allarga per Capitan Fiaschira, Morandi, Morandi, a zona, la difesa dell'Arezzo, cerca dalla lunga distanza, Ramirez, non va, il tentativo, Matteo Cutini è stato ostacolato, è il numero 6 che si lamenta, Morandi, 52 a 40, Gramaccia va a servire Giulio Bianchi, sfugge il pallone, poi recupera molto bene, si libera, Matteo Cutini, Matteo Cutini, trova, Matteo Cutini, Raugio un mette in mezzo a tre, in mezzo a tre, in mezzo a tre, abbiamo visto come il 14, si è stato messo per arginare, gli attacchi avversari, e l'ha fatto veramente compitamente, l'ha fatto in maniera, rimessa in gioco, e Lorenzo Dotti, va Raul Giommetti, ancora, e Samuel Gramaccia, e bel gesto, bel gesto di Ramirez, che è dietro spalla, vediamo, ha servito il pallone, ancora secondo tentativo, 54 a 40, 14, e Samuel Gramaccia, non c'è, non c'è Samuel Gramaccia, sfuggito il pallone di mano, in un paio di circostanze, non trova la, la giusta, concentrazione, 40, 54, 14 punti, 14 minuti al termine, si libera molto bene, vediamo, reverse di Ramirez, termina, va dietro, ottima, questa, va, Raul, con Mettia, più tiro aggiuntivo, a canestro, vediamo se, nei momenti di bisogno, saprà, tirar fuori, quella precisione balistica, indispensabile, va, va, senza toccare ferro, no look del numero 6, Morando, non è preciso, non è preciso, è preciso molto bene, Raul Gionmetti, vediamo, ancora una volta, numero 14, è il numero 14, si dispera, Gionmetti, secondo tentativo, già in doppia cisa, con 11, peccato, non va, a rimbalzo, alla meglio, Ramirez, vediamo come Diamanti, si disperi, in maniera, numero 14, circa della lunga distanza, la mette dentro, la mette dentro, Morando, da 3, 56, 45, 11 punti di vantaggio, chiaramente è un divario enorme, ma siamo stati, vediamo come, il numero 14, il numero 14, veramente, non c'è bisogno di essere, esperti di questa disciplina sportiva, per vedere, certo, fa bene a realizzare, è giusto che realizzi, ma è scomposto, come è scomposto il suo fisico, quando attacca, scordinatamente, e questa volta è, sfondamento, del numero 4, Fontanelli, 58, 45, 13 lunghezze di, di stacco, chiaramente, dei percentuali, di realizzazione, sicuramente, sono, diverse, troppi elementi, che non stanno rendendo, due su due, vediamo, il numero 4, è il numero 6, che è Morando, Ramirez, allarga, vediamo il numero 14, e lo seguiamo, con intensità, vediamo, vediamo il numero 14, ancora una volta, il fallo, lo prende il numero 14, ma commesso fallo, sull'uomo, è andato proprio, con il torace, sul volto dell'avversario, di turno, 47, 58, si ferma, l'attacco, la propulsione, offensiva, della, della formazione, della Mesba, che sbanda, paurosamente, davanti agli attacchi, della, formazione, la Bronica, è veloce, come una piuma, sgusciante, come un, 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 un giaguaro, è, perde il pallone, si libera molto bene, ottimo, ma giudio bianchi, bianchi, in precisione, veramente, la listica, cerca, capitano, fiaschi, la mette, fiaschi, 5, 61, 47, e, di fronte a, tanta classe, in fase di realizzazione, dobbiamo, dobbiamo, inchinarci, chiaramente, quello che, toccato, cerca, dalla lunga, chirlissi, va, rimbalzo, alla meglio, il numero 4, Fontanelli, fiaschi, alta poligna, la nostra, formazione, caricamento esplosivo, fiaschi, la mette dentro, Giulio Bianchi, ecco, il numero 14, che, non ci piace, né stilisticamente, e, tantomeno, comportamentalmente, è andato addosso, caricando, i nostri atleti, quindi, valido, questo, Fontanelli, 23 suoi punti, Fontanelli, chiaramente, ma tutti i giocatori, hanno mostrato, capacità balistiche, non indifferenti, sicuramente, il, il modello, di Borghini, è un modello, 49 a 63, ci riparte, Carlino Provenza, che entra in campo, sostituendo, Raul Gionmetti, sfortunata prova, di tutta la, e il roster, Raretino, e, perdi il possesso, 24 secondi, la scorsa, vai, possesso, la formazione ospite, Morando, Morando, Gocco in attacco, del numero 4, Fontanelli, vediamo, vediamo, ancora, e, chiaramente, non c'è soltanto, la capacità, realizzativa, ma c'è anche, la, l'esperienza, l'esperienza, uomo a uomo, punta, diretti avversari, e poi, non va, tap-in, di, Dolphi, Lorenzo, ecco, il numero 14, chiaramente, non va, rimbalza, arriva, Dolphi, gli consegna, la cortesia, non va, due, tiri liberi, si dispera, si dispera, Chirlis, a 14 suoi punti, sono troppo pochi, per, l'astro, lo zarria, di Arezzo, che lascia, il terreno di gioco, unitamente ad Olphi, sono i due, neo arrivati, lasciano il terreno, Raul Giommetti, a, Samuele Gramaccia, 63 a 49, 14 lunghezze, di distacco, sono tante, con un 14, veramente in, scatenatissimo, in fase difensiva, carica, il sinistro, Matteo Cutini, giornata no, di tutta la forma, vediamo come, come il numero 14, spinga, Raul Giommetti, 51, 63, 12 lunghezze, di vantaggio, ultimo possesso, per la formazione, lavronica, Morando, cerca di far trascorrere, tutto il periodo, la disposizione, Morando, scoppato da, da Giulio Bianchi, il numero 14, Borgini, che ha realizzato, un, un tiro in movimento, in movimento, con due punti, vediamo da fermo, va il primo, stilisticamente scomposto, ma realizzativamente, prolifico, due su due, vediamo, non sa chi marcare, può marcare tutti, Borgini, cerca sulla sirena, il tiro della disperazione, che non arriva, si va all'ultimo periodo, 51 a 65, 14 lunghezze di, 14 punti di differenza, una lunghezza stratosferica, contro una formazione, che salvo un calo impensabile, ma, che noi ci auguriamo, compromesso il risultato, di questo turno, casalingo, contro una delle formazioni, più qualificate, per il salto di categoria, 51 a 65, si riparte da questo punteggio, meno 14 per la nostra formazione, dicevamo, abbiamo detto, forse nell'intervallo, la percentuale di realizzazione, del 38%, 20 tiri su 52, per la formazione di casa, contro il 46, 26 realizzazione su 56, per la formazione ospite, quindi la dice tutta, sul risultato di questo turno, che se non cambia radicalmente, l'andamento, e l'entusiasmo, è in possesso, perde il pallone, resta in campo, da dietro, Ramirez, Ramirez, poi allarga sulla corsia di destra, corto il tiro, va, a rimbalzo, Carlino Provenza, va in attacco, sbilancia la difesa, finta, e poi da, Matteo Cutini, la mette dentro, da tre, da tre, da tre, Dolphi, Desia, vediamo come, il numero, vediamo, il numero 7 abbia, non ha visto niente, il direttore di gara, il numero 7 abbia buttato per le terre, Dolphi, Lorenzo, ha fatto notare al secondo arbitro, il signor Agnorelli Giovanni, vediamo al numero 14, ha spinto, Kirliss, in solitudine, va, questa volta anticipato, tocca, e va, va in attacco, Carlino Provenza, ci deve credere, no, ha peccato, vediamo come il numero 4, e il numero 4, Fontanelli, Kirliss, il nostro, Laurinas, vediamo se potrà, prendere per mano, ai nostri ragazzi, cercare da, questi tiri liberi, dopo il primo tiro, che ha messo in evidenza, una giornata negativa, ha realizzato, 4, su 5, 5, su 6, quindi, è una ottima percentuale, di realizzazione, 9 lunghezze di vantaggio, 9 lunghezze di vantaggio, 9 lunghezze di vantaggio, vediamo, si smarcano, si smarcano, va, cerca, perde, perde il pallone, perde il pallone, è possesso per la formazione, ospite della, Ciancì Carrara, va in attacco, questo, è Carlo, Raul Giommetti, che commette fallo, sul portatore di palla, che si porta alla lunetta, è Fontanelli, chiaramente, è il top score, di questa partita, 23 realizzazioni, un solo punto, da uno, tutti gli altri, da due senza, alza la parabola, realizza in perfetta, sincronia con il polso, il pallone, rotazione perfetta, quindi, nulla da eccepire, non va il secondo, tentativo, numero 7, cerca, la rimessa, la rimessa di Agnorelli, è per la formazione, è per la formazione, addirittura, addirittura, questo Giovanni Agnorelli, esce, Morando, gente fresca, ritorna in campo, Capitano Fiaschi, vediamo, pallone ha segnato, una rimessa ha segnata, di Agnorelli, Fiaschi, va a cercare, cerca, blocca in attacco, cerca, dalla lunga distanza, a rimbalzo, arriva, in velocità, Cardino Provenza, lamenta, arriva il gioco, cerca, la mette dentro, Kirlis, Kirlis, 60-66, ci deve credere adesso, ci deve credere il pubblico aretino, in questa circostanza, deve aumentare, deve aumentare il suo, incitamento, incitamento del pubblico aretino, vediamo, a rimbalzo, Cardino Provenza, ancora Lucchia, ha velocizzato il gioco, per mezzo a due, supera metà campo, transizione, poi va, cerca, non Lucchia, è un toppato, vediamo, sono costretti al fanno, 59-66, 7 lunghezze di vantaggio, quando mancano 7,33 al termine, e cerca di porre rimedio, Mirko Diamanti, chiama un minuto di riposo, deve cercare la formazione, a retina di credere, nei propri mezzi, veramente, un espluato, cerca di cambiare l'inersa del gioco, con tanto entusiasmo, ma è stato, Kirlis, che ha mosso, praticamente, l'entusiasmo, con le due, con la sua tripla, e due punti, da libero, da uno, a rimettere in, a riatturire le speranze, della formazione di casa, che, nonostante la, il silenzio del pubblico, a retino, che segue con attenzione, il, la, la partita, è proprio in questi momenti, che dovrebbe far sentire, il, la propria presenza, il proprio tifo, la propria passione, grande prova di maturità, deve, non deve mai, cedere, mai abbassare la guardia, sono queste le partite, che devono dare, la carica, devono dare, quella accelerazione, sembra un po' stanca, la formazione, si riparte, con due tiri liberi, certo, il numero 14, è stato, dal punto di vista, stilistico, non eccessivamente, eccellente, ma lo è stato, dal punto di vista, della distruzione, del gioco avversario, non va, e questi sono punti, non soltanto mancanti, ma sono punti, che demoralizzano, il roster, corto, vediamo, e poi neanche, l'imbalzo, 59, 66, 7 punti, si va in attacco, la formazione, marittima, Matteo Gutini, vediamo come il 14, spinga Matteo Gutini, non va, rimbalzo, Matteo Gutini, e vediamo, non ce la fa questa volta, ancora scoordinato, il numero 14, Borghini, abbiamo visto come Matteo, abbia subito, mentre Mirko Diamanti, si rivolge al direttore di gara, alla signora Irene, ma, cerca, Camino Promesa, tocca, e vediamo, la rimessa in gioco, di Kirlis, vediamo come, vediamo come, ha messo giù, e ha messo giù, ha messo giù, ha messo giù, Ramirez, peccato, peccato, Ramirez, ha messo giù, la ritiamo dopo io, 59-66, non va bene così, devono vincere con la loro abilità, passi, 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 vediamo ancora, ancora la reazione del numero 14, scomposta, va a cercare, senza possesso di palla, senza niente, va a cercare Raul Gionmetti, e forse, la dovrebbe essere calmi loro, non reattivi noi, reazionari noi, dovrebbe essere la formazione ospite, che sta in vantaggio di, sette lunghezze, Matteo, Camino Promesa, finta, va, vediamo, il numero 4, commette fallo, Fontanelli, nella fase finale, auguriamoci che, si ravedra, rimessa dal fondo, Tolfi, va a cercare, vediamo come si è abbraccato, Raul Gionmetti, dal numero 14, si riparte, ineccepibili, vediamo, Ramirez, non va, rimbalzo, che ha il Calvino Proves, al pallone, è l'azione importante, l'azione importante, Calvino, cerca, ha chiesto troppo, con i mezzi, Calvino Provenzal, la gomitata, del numero 4, in fase di uscita, vediamo, come diamanti, come diamanti, ed ora, e ora, il pubblico, Fischia, ancora in decisione, per le sostituzioni, si gioca, si gioca più di cuore, che di fisico, scomposti gesti, di entrambi, vediamo gli allenatori, vediamo diamanti, anziché calmare i propri ragazzi, cerchi di, esasperarli, vediamo anche, chi sta entrando, Ordini, Fiaschi, Malucco, cerca la bomba, che non arriva, ancora possesso, possesso, per Capitano Fiaschi, sotto mano, la mette dentro, il numero 14, la mette dentro, il numero 14, è una difesa arcigna, questa, vediamo, come spinge, Raul Giometti, ormai, ho fissato, la mia, la mia attenzione, sul numero 14, scusate ma, è così, si libera, Chirlisse, non ce l'ha fatta, Chirlisse, a Fonte La Prudezza, sarebbe stata, veramente la, la ciliegina, esce sconsolato, Chirlisse, sostituito da, Giulio Bianchi, ma ad Arezzo, ci manca, la, il sesto uomo in campo, lui era stato, nelle, precedenti, prestazioni, il silenzio, chiaramente, non aiuta, anzi, cerca la bomba, la bomba, che ammazza il risultato, e vediamo, come Ramirez, non aveva mai giocato, con tanta, foga, con tanto entusiasmo, quando era, nella nostra, tap in, cerca, vediamo, ancora, esce con il ballone, Ramirez, allarga, sulla corsia, di destra, penetrazione, nel numero 14, circa Ramirez, si gira, e poi va a cercare, ancora il numero 14, che mette, fa, vediamo, e il numero, vediamo, buttaci un numero, eh, peccato, non va, non va, come Raggio, ometti, si è stato messo a terra, 4 minuti, 8 secondi, fa respirare, rientra in campo, Chirlisse, seguito come nombra, questa circostanza, da, da Morando, Cardino Provenza, giudio Bianchi, giudio Bianchi, nel corridoio di sinistra, Cardino Provenza, cerca, la bomba, ancora una volta, non arriva, vediamo, si precipita, finalmente l'ha visto, ha visto, ha visto il numero 14, portare dietro, portare dietro, l'Algion Metti, nessuno si smarca, va, va lungo, ottimo, Giulio Bianchi, arresto e tiro, non va, no, peccato, peccato, giornata no, troppi, giornata no, che non danno l'opportunità, scuscia, cerca il numero 8, non va, rimbalzo, Cardino, Raugio, vediamo ancora, queste fanno, la mette dentro, scoordinato come sempre, però efficace, il numero 14, la mette dentro a capolavoro, grande realizzazione di Killis, 21, si scontro, va, va, che, Ramirez, cerca la bomba, Morando, ci abbassiamo, tanto di cappello, a Morando, non sicuramente, a Mirko Diamanti, che, non ci ha garbato, assolutamente, che passi, ha cercato di esasperare, vediamo anche in panchina, vediamo che maniere, che maniere, utilizzi nei confronti, dei propri ragazzi, lo ha strappato dalla panchina, letteralmente, e l'aveva mandato in campo, se riparte con la formazione ospite, possesso, allarga, per il, e va dentro, precario, quindi nulla, è il numero 7, che, ha commesso fallo, non ha segnato il punto, e si manda, alla rimessa in gioco, la formazione Aretina, si dispera Lorenzo Dolfi, partita, iniziata benino, diciamo così, bene, 24 punti realizzati, contro una formazione, dopo aver misurato, la forza dell'avversario, ha trovato le componenti, ha trovato i correttivi giusti, per cercare, di arginare la difesa, ma con tiratori di questo calibro, perde il pallone, Raffaele, è il direttore di gara, anche se ci dà falli, che non sono, quando ormai, hanno 15 punti di vantaggio, due minuti al termine, deve essere imparziale, dare il dovuto, durante l'incontro, nei minuti iniziali, non nella fase finale, quando ormai il risultato è conseguito, ci dispiace, non che i direttori di gara, abbiano una responsabilità sul risultato, siamo stati noi, che abbiamo giocato poco, la percentuale di realizzazione, lo conferma al terzo quarto, praticamente il 38% di realizzazione, contro il 46% degli avversari, è il bilancio impietoso di questo quarto turno di campionato, terzo turno di campionato, dopo due vittorie, la vittoria iniziale con il Quarrata, e contro il Liburnia, 81-76 della scorsa settimana, la CNC cento mini basket di Carrara, ha vendicato, ancora una irregolarità, nei confronti di Raul Zommetti, 1-27, 61-76 ormai, ottimo tempi, vediamo, cerca di, allora ritorna, e la tranquillità da serenà in campo, ma certo sono gesti, particolarmente di Diamanti, che non giovano, a riportare serenità in campo. 61-76, un minuto al termine, sicuramente, uno dei migliori in campo, non per la realizzazione, ma per l'entusiasmo, con il quale è stato Ramirez, che ha giocato con il coltello tra i denti, andando a recuperare i palloni, ostacolando in maniera eccessiva, lo stesso Raul Zommetti, in diverse circostanze. Chirlissi, va il primo, rende meno amaro il risultato, 14 lunghezze di, di vantaggio per la formazione ospite, che non c'era bisogno di utilizzare maniere forti per conquistare i punti, data la sua precisione balistica, veramente, del numero 4 Fontanelli, del numero 6 Morandi, e dello stesso capitano Fiaschi, quindi senza ricorrere a mezzi dubbi, e non certo, non sempre, ma due su due, non sempre ortodossi, avrebbe portato a casa, vediamo, è il numero 14, è uno dei più maldestri, nel senso che stilisticamente, sicuramente è scordinato nei movimenti, cerca, 63 a 76, ormai è scritto questo risultato, la formazione validissima, la formazione validissima, questa della mini basket, Carrara, dei marmiferi, non va il primo, va il secondo, 16 secondi al termine, chiaramente 63 a 77, 14 punti, è vittoria, ma dal punto di vista comportamentale, non c'è garbata eccessivamente la formazione ospite, è stata non tanto fallosa, dal punto di vista fisico, ma intempestiva, nelle chiusure, e il due arbitrale, è iniziato, non certo nel migliore dei modi, un approccio più che sufficiente a un incontro, che la precisione di elementi come Fontanelli, Morandi, Fiaschi, e Ramirez è poco, otto punti realizzati qui, ma è stato più importante, più efficiente in fase difensiva, che è in fase realizzativa, quindi a dimostrazione, anche in questa circostanza, va a prendere in cielo, il pallone che va, perde il pallone, reverse, non va ancora, arriva Raul, Gioometti, 5 secondi al termine, 63 a 77, 65 a 77, Matteo Coppini termina, la bomba del numero 8, capitano Fiaschi, il pallone esulta, la formazione ospite, Mirko Diamanti, nonostante le sue qualità indubbie, chiaramente ha vinto un campionato, di uno scudetto al femminile, ma non c'è garbato il suo comportamento in panchina, eccessivamente irritante, che ha cercato di irritare, non soltanto pubblico, ma anche gli stessi giocatori, chiaramente, non diamo giudizi tecnici, ma diamo giudizi di quello che abbiamo visto, del comportamento delle persone in panchina, e durante il gioco, e chiaramente da evidenziare il fatto, che Ramirez, abbia giocato, praticamente con il coltello tra i denti, qui tra gli ex dello scorso anno, una palestra che gli ha dato delle grandi soddisfazioni, abbia giocato allo spasmo, con tanto entusiasmo, mai visto in un campionato, lo scorso anno, ed ora vanno a riprendersi gli applausi, non certo meritatissimi, i nostri ragazzi, ma di fronte a elementi, che come Fiaschi, ha realizzato qualcosa come 5 triple, 3 morandi, e gli altri atleti come Fontanelli, ha realizzato il top score, 24 punti, tutti da due, dimostrano ampiamente la formazione, come la formazione carrarese, abbia i numeri per poter ambire alla piazza, alla fase finale del campionato, noi ci salutiamo, ma prima di chiudere la linea, sentiremo dalla loro voce, dei diretti protagonisti, sensazioni e commenti a caldo, a tra poco. Peppe Delia, una prestazione al di sotto, delle potenzialità della nostra formazione, che era partita veramente bene, poi ci siamo smarriti, forse dall'atteggiamento di alcuni elementi, non eccessivamente, diciamo così, hanno disturbato il nostro comportamento, disturmato legalmente, in maniera regolare, l'andamento della partita, però diciamo che, tutto sommato, siamo stati imprecisi al tiro. Sì, sì, ho avuto da ridire un po' con gli arbitri, ma sicuramente sugli arbitri non ci possiamo fare niente, non alleno gli arbitri, sicuramente non possiamo fare le nostre fortune basandoci su un buon arbitraggio, su un cattivo arbitraggio. Io penso che oggi, veramente devo stringo di nuovo, metaforicamente, la mano a Carrara, perché ha fatto una partita super, super, sotto tutti i punti di vista. Noi sapevamo, aspettavamo questo tipo di gioco, sapevamo che loro in difesa adottavano un tipo di difesa molto aggressiva, sapevamo che in attacco era una squadra con determinate qualità. siamo riusciti a mantenere il nostro attacco abbastanza alto come qualità, ma la difesa è stata sicuramente da rivedere. Il primo quarto l'abbiamo chiuso in vantaggio, 24-23, ma solo frutto di un attacco molto prolifero. Il secondo, il terzo e il quarto quarto, dove l'attacco ha fatto il suo sicuramente non ha trovato canestri, anche canestri più o meno facili, però, come dico sempre ai ragazzi, noi le partite le possiamo vincere anche segnando 50 punti, l'importante è farne segnare 40 o meno agli altri e questo oggi non ci è riuscito. Ripeto, demerito nostro, demerito nostro, demerito soprattutto di una difesa individuale non all'altezza della situazione, ma soprattutto grande, grande merito ai giocatori di Carrara, Fontanelli si conferma un giocatore super per questa categoria, Fiaschi, secondo me, è uno dei migliori playmaker di questa categoria al momento, Morando non lo devo conoscere, non lo devo presentare io, è un giocatore che fino all'anno scorso ha giocato sempre il Cigoldo, perciò veramente tanto merito alla scuola di Carrara, faccio ancora un applauso. Noi ci consoliamo con il top score della partita che è praticamente il nostro zar lituano, chi risse, e quindi soltanto questo, e se avesse rilogato al top della loro potenzialità, anche gli altri, sicuramente avremmo fatto una... Ma Laurina si è fatto benino in attacco, anche lui come tutto il resto della squadra ha peccato nella difesa, forse ecco, lui con Raul, Giometti e Lorenzo Dolfi sono stati quelli che in difesa hanno rispettato un po' più il piano della partita, da me detto, diciamo, in settimana, però, ecco, non stiamo lì a fare pro e contro individuali. È stata una partita che Carrara ci ha fatto giocare male, ci ha, con delle situazioni difensive soprattutto, non ci ha fatto giocare sui nostri ritmi, sulle nostre cose, ci ha rotto un po' l'equilibrio, va bene così. E come hai visto le ex di turno? Iosa ha fatto la sua partita, sappiamo che non è un giocatore di grande qualità, ma un giocatore di grande energia, può fare partite dove fa pochi punti, magari come oggi, però dà una mano in difesa, rimbalzi, situazioni sporche dove lui è sempre prima a tuffarsi, anche lui, nonostante che non sia stata sicuramente una partita di alto livello per lui, anche lui ha dato una grande mano al resto della squadra. E ora auguriamo al nostro coach Peppe Delia il miglior di fortuna e che possa riprendere la via del cammino e certo il pubblico oggi non ci ha aiutato minimamente perché nei momenti di bisogno, anche se la squadra ha mostrato ampiamente di essere superiore all'avversaria, però nei momenti di bisogno ci poteva essere un sostegno più forte, più possente, più equilibrato. Sì, ripeto, a me io insomma vivo di Palacanestro da, nonostante la mia giovane età, vivo di Palacanestro da sempre. Secondo me oggi al di là del risultato si è fatta una grandissima partita, si è messa in campo una grandissima partita di Palacanestro dove una squadra è stata più brava dell'altra, però al di là di questo io penso che come livello di gioco, come anche chiamiamolo spettacolo, ecco, è un peccato che ci sia così poca gente a vederselo, perché poi ecco, come dici tu, poi bastano 50 persone in più che fanno un po' più di, fanno infiammare un po' la partita, però, ripeto, questo è un po' come il discorso degli arbitri, Carlo, non possiamo basare le nostre fortune e le nostre sfortune su terze persone che possono essere gli arbitri, possono essere i tifosi, possono essere chiunque che non sia nel nostro gruppo, quindi va bene così, arriveranno anche loro. Bene, noi ringraziamo questa esaustiva segna praticamente visione del nostro coach Peppe e lì salutiamo e auguriamo di riprendersi prontamente sin da domenica prossima, chiaramente abbiamo perso una battaglia, cerchiamo di conquistare la vera finale. Sono 26 gare, sono 26 partite, l'anno scorso su 26 partite ne abbiamo perso 7 e con cui siamo arrivati i primi in classifica, quindi il nostro obiettivo rimane quello di fare un campionato di altissimo livello, di altissimo prestigio, questa è una sconfitta contro una squadra forte, una partita importante, ce ne saranno altre e sicuramente sabato a Pontedera dobbiamo riscattarci. Grazie al nostro Peppe Delia, al nostro pubblico televisivo, arrivederci al prossimo turno, buonasera a tutti, arrivederci.